Siamo venuti a svolgere una visita ispettiva all'ospedale San Massimo di Penne, l'ennesima visita ispettiva, e in particolare siamo venuti a controllare due reparti che sono stati per ragioni diverse oggetto di manutenzione, il terzo piano del vecchio padiglione dove c'era l'AFO, l'ambito funzionale ottimale per quanto riguarda l'aspetto cardiochirurgico e il secondo piano di medicina. In entrambi i casi si tratta di 20 posti nel primo caso e 20 posti nel secondo caso, quindi 40 posti letto che per varie ragioni sono stati oggetto di manutenzione e che sono pronte già nel 2021 e che non sono attualmente utilizzate. Una volta l'ospedale San Massimo aveva 80 posti letto, oggi ne conta 40. Siamo venuti a visionare questi reparti ma siamo venuti soprattutto a spronare l'amministrazione regionale di centrodestra e l'asile di Pescara a fare in modo che prendano decisioni che possono essere utili per il comprensorio vestino ma che possono essere utili anche per il problema del sovraffollamento del pronto soccorso di Pescara e degli altri pronto soccorsi. È naturale che utilizzando questi posti sarebbe più facilmente affrontabile questa situazione. Serve personale perché serve personale sia infermieristico che medico, ma il nostro appello è quello di fare in modo che a distanza di un anno, un anno e mezzo, adesso si prenda veramente una decisione perché è bruttissimo vedere soldi spesi e non utilizzati così, è bruttissimo vedere persone nei corridoi dell'ospedale quando invece ci sono dei posti letto che potrebbero essere tranquillamente utilizzati. L'ultima vicenda riguarda invece il personale del pronto soccorso del San Massimo di Pene, sono ormai soltanto 4 i medici, dovrebbero essere 7, vengono aiutati anche da medici degli altri reparti, anche qui dobbiamo fare in modo che questo pronto soccorso possa essere funzionale all'area vessina ma all'intero comprensorio peschalese, soprattutto nell'ottica di mettere in funzione la centrale unica di smistamento del 118 che potrebbe portare naturalmente persone, in base alle patologie, anche all'ospedale San Massimo, perché devono trovare naturalmente un pronto soccorso funzionante ma dotato di medici.